Un settembre ricco di fascino, quello che si appresta a vivere città di castello, grazie alla mostra nazionale del cavallo, che ospiterà la fanfara, cavallo della Polizia di Stato, ospite speciale dell'evento in programma dal 10 all'11 settembre. L'appuntamento a radici lontane che risalgono al 1032, quando nella città Tifernate, in onore del patrono San Florido, presero il via a celebrazioni con fiere di merce e bestiame, giostre, pali, ma anche corse di cavalli e di un corpo che è re dei custode della millenaria consuetudie delle parti cavallereschi di scandire le marce con squilli di tromba. La fanfara a cavallo, dunque, animerà il cuore di città di castello sabato 10 settembre alle 18, per poi caratterizzare anche lo show equestre curato da Nico Belloni, che si terrà nell'anfiteatro del parco Alexander Langer alle 21, sempre di sabato 10 settembre e domenica 11.